Anche questa famigliola è stata decimata dall'epidemia di gastro che c'è stata il mese scorso. Loro sono i piccoli recuperati a monocchio. Sono cresciuti e sono grandi quasi come la mamma. La mamma ha ancora tanta paura, tanta tanta paura. Non so cosa le sia capitato, non possiamo immaginarlo. I piccoli sono molto più tranquilli. Loro sono abituati a vivere con una mamma timorosa. Sono un po' diffidenti e su loro faremo pian piano un lavoro per farli riconciare con l'umanità perché non hanno avuto esperienze che li hanno segnati. Sono ancora piccolini, hanno circa tre mesi, sono già vaccinati e anche loro sono in attesa di adozione. Sono bellissimi, sono tanto cresciuti. Qualcuno di loro è stato adottato, qualcun altro lo abbiamo perso nell'epidemia di gastro, come dicevo prima. La mamma è stata adottata, qualcun altro lo abbiamo perso nell'epidemia di gastro, come dicevo prima. Ammazzucchero, ancora oggi, trema. Se noi ci avviciniamo a lei, non osa guardarci in faccia e trema. La state vedendo. Ci sarà un lunghissimo lavoro per recuperarla che faremo gradualmente e speriamo di riuscire il più possibile a renderla un cane adottabile che sia in grado di stabilire un rapporto con il mondo umano. Zucchero è bellissima, è una taglia piccola, bianca, anche giovane, ma di lei non sappiamo nulla e di quello che è passato.